Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Game Play Ita. Oggi siamo su Lords and Villains, un gioco davvero davvero molto interessante e come potete vedere qua dallo sfondo magari la grafica vi potrebbe ricordare quella di Rimworld e in effetti lo ricorda anche se con notevoli differenze. Questo io lo ripeto uno dei giochi innovativi, è uscito già da un po' di tempo e si basa tutto sul concetto di vassallaggio nel Mediorevo e quindi con questa grafica, con questa gestione che non si discosta molto da Rimworld però noi saremo il sovrano insomma di questa terra affidataci dal re e dovremo gestire tutto. Ho già fatto il tutorial, sono circa un'oretta quindi inizieremo con una partita già cominciata da un po', poi so già che finirà male nel momento in cui farò comunque, vedete la selezione del terreno, della partita nuova. Possiamo scegliere il nostro sovrano, scegliere la faccia, la barba, insomma i capelli, il nome, se loro do una lady e possiamo scegliere il partner. Ovviamente iniziando senza partner sarà più difficile, poi come fare figli non lo so, loro si vedrà però è tutto basato sulla nostra dinastia di sovrani. E quindi iniziamoci, viene assegnata ad ufficio una moglie, possiamo scegliere anche il numero di figli, insomma farlo giovane o vecchio. e andare a vedere un attimino di creare la nostra dinastia. Fino a tre figli si può iniziare e quindi andiamo a vedere in che cosa consiste questo gioco. Iniziamo, continuiamo la partita che ho fatto io col tutorial. Allora, ora c'è il re che ci ha assegnato questo territorio che ci fa da tutorial e ci dà questa serie di compiti da fare. Sono arrivato appunto dopo una retta e abbiamo il villaggio, ma vi spiego in breve in che cosa consiste il gioco. Voi avete, come in Rimworld, l'incarico di dare i compiti ai cittadini. Quindi noi siamo, io sono questo, Indie Gameplay Ita, e la moglie è questa, Roesia Gameplay Ita, adulta, professione leadership. La cosa interessante è che qua possiamo andare a vedere le zone e il gioco è fondamentalmente basato su queste zone. Adesso io posso cliccare qui e vedo, qua posso assegnarle, c'è il manual, il maniero, insomma la casa del proprietario. Proprietario, warehouse, marketplace, il marketplace delle carovane, quindi quando arrivano dall'esterno si fermano qui. L'area pubblica, l'household, che sono i lotti assegnati ognuno a una famiglia in vassallaggio a loro volta. L'area della taverna, quella che andremo a fare adesso. La farmland, la royal forest e il fishing pool. Allora, interessante perché qua avete, allora intanto chiudo, questa è la foresta reale. L'ho assegnata a una famiglia perché qua all'inizio della partita vedete che c'è la vostra famiglia. Qua dovrebbe esserci anche l'equipaggiamento che non ho ancora approfondito perché il tutorial non mi c'è ancora portato. Abbiamo le tre famiglie che sono bene o male identificate da una icona che mi fa capire la loro predisposizione. I tailpid, che ho assegnato, che sono composti da due più tre figli, i tailold, due più quattro figli, e i loges, che mi fa capire che sono dei pescatori. Io ho diviso la zona in foresta reale in cui ho assegnato la famiglia. Vedete che cliccandoci sopra voi possiamo andare a, vabbè all'inizio lo potevamo fare, comunque assegnargli una famiglia. Gli abbiamo assegnato quelli che si occupano appunto di foreste. E all'interno della foresta loro vanno e tagliano alberi. E cliccando su ogni regione potete andare ad aggiungere, vedete qua possiamo togliere l'ownership, quindi il vassallaggio insomma a questa famiglia. Possiamo cancellarla e mettiamo un sigillo reale e la possiamo assegnare a qualcun altro. Ma noi gliel'abbiamo assegnato loro. Loro producono liberamente e il 10% delle risorse prodotte vengono tassate alla fine della stagione. Vedete abbiamo qua in alto a destra, abbiamo finito la primavera, siamo in estate, stiamo arrivando verso la metà dell'estate. E ci viene tassato, gli viene tassato tutto. E intanto producono. La cosa interessante è che da qua possiamo costruire degli edifici. Quindi gli abbiamo costruito un feeder, se lo costruiscono loro poi noi però gli diamo il permesso di farlo, per i maiali, per gli animali. Gli abbiamo costruito una sow horse, quindi una segheria. E infatti qua adesso se noi andiamo ad accelerare il tempo, vedete che lo metto a uno, vedete che stanno producendo assi. E qua io non ho ancora capito esattamente lo storefront, in che cosa consiste. Questa è una sorta di mercato in cui possiamo, loro producono e vanno e vendono ad altra gente. Quindi se io ad esempio do l'ordine ai pescatori di costruire altre carne da pesca, loro vanno, lo fanno, vanno, prendono il legno per farsi la carne da pesca e la comprano dalla famiglia che mi gestisce la foresta reale. Allora, la foresta reale è questa, poi abbiamo la zona dei pescatori, in cui il tutorial mi ha fatto mettere le fishing net, ce ne sono una, due, tre o più delle carne da pesca posizionate in vari punti dove loro pescano, più un barrel, un barile dove mettono il cibo insieme, insomma. E una delle più interessanti è la zona di, questa qui, di coltivazione, in cui ho fatto il farming soil, quindi gli ho detto di coltivare, ma qua possiamo, vedete, dirgli coltivate questo, cabbage e partnership. Questa invece il riso è fuori di stagione, quindi non possiamo farlo, diverse cose possiamo dargli l'ordine, ma non lo fanno. E qua il management, quindi praticamente usano la terra per rigenerare la fertilità del suolo. Altra cosa davvero interessante che ricalca un pochino la natura medievale del titolo è il fatto che avete negli animali la possibilità di dargli il permesso di possedere degli animali. Io adesso in questo caso, vedete, posso dirgli, potete avere anche le galline, una gallina se volete. Io firmo e loro in questo momento hanno il diritto, cioè la possibilità di avere il loro animale. Gli ho permesso di avere tre mucche a loro e seguendo sempre il tutorial, ovviamente, perché io non so ancora giocare bene, e qui gli ho permesso di avere tre maiali, che hanno tra l'altro, perché hanno acquistato probabilmente da una carovana, infatti si vedono qui che pascolano e poi vanno qua e produrranno della carne. Tra l'altro è importante perché potete anche assegnare i luoghi delle case e assegnare ogni casa a una famiglia e mettergli all'interno tutto quello di cui hanno bisogno, il letto, ma non bastano mai perché qui sono in cinque o in quattro, insomma c'è solo un letto da due posti, qua un posto, un posto, però hanno all'interno diverse cose, tra cui lo scaffale per i cibi, il calderone insomma per cucinare, il fuoco per scaldarsi e un inventario interno. Hanno, vabbè, possono avere il barile, possono avere tutto. La cosa che mi ha lasciato un po' più perplesso è il fatto che nella zona in alto, quella che si chiama la manua, quella per il maniero del signore, noi, l'ho fatta enorme, ho dovuto fare anche il tetto perché è bene o male, se voi cliccate vedete con lo shifter, col caps lock, scusate, vedete anche il tetto degli edifici, lui si è messo, il mio personaggio e la moglie, si sono messi a costruire per i fatti loro, cioè loro quando avevano finito di lavorare non davano una mano al signore, cioè ognuno fa per sé, questa è una meccanica che devo ancora un pochino capire, infatti a metà tutorial io non avevo ancora finito il tetto, adesso fortunatamente dovrei averlo finito, quindi dovremmo essere a posto. Mancano i pavimenti ancora perché ci sono, vedete, i floors, i tetti in vari materiali, abbiamo le mura in vari materiali e le porte, abbiamo il furniture che si possono mettere, ma in realtà poi contestualmente, aprendo il menu delle aree, possiamo scegliere cosa mettere. Ci sono un sacco di dati, un sacco di cose da cliccare per vedere la presenza, per vedere anche quanto abbiamo guadagnato, quanto le varie famiglie hanno fatturato, insomma quante tasse hanno pagato per ogni stagione, e i figli poi non so ancora come si fanno, insomma, però penso lo farà il gioco in automatico per aumentare la discendenza, non so, a dire la verità, se c'è una vera proprietà del personaggio, so solo che ho forza uno e lei ha forza quattro e ha delle stat molto più belle delle mie. Il mood è abbastanza buono, diciamo che se la cavano, vedete che hanno foraging, cooking, hanno una professione di base. La cosa interessante è che poi possiamo avere nuove famiglie che arrivano, e la cosa che andremo a fare adesso, assegna un... vedete che il tutorial ci dice prendi una zona, la zona della taverna, la taverna magari la piazziamo in zona qui, vicino alle case, non ho ancora ben capito come dare l'ordine di abbattere questi alberi, ma vabbè, rimane la gente con l'albero in casa, ma va bene. La piazziamo qua, facciamo una zona qui, di inn, ok. Assegna una famiglia all'inn, costruisce un bar nell'inn, costruisce un calderone, costruisce un pozzo, perché vedete c'è anche la particolarità, che c'è anche l'area comune, che è questa, la public area, in cui ho fatto un pozzo, perché noi nel nostro maniero abbiamo il pozzo privato, loro no, loro hanno il pozzo pubblico. Poi, un'altra cosa interessante è che la qualità del cibo è generata dalla quantità di cibi a cui possono attingere, nel senso che se hanno un solo ingrediente, quindi solo carne, ad esempio, è il cibo base, cibo d'emergenza. Se hanno due ingredienti, quindi riescono a combinare carne, un frutto o una verdura, diventa un pasto normale, e andando avanti aumentano sempre di più. Qua c'è, va bene, il tutorial book, in cui, scusate, ve lo faccio vedere meglio, in cui si può andare, vedete, il good meal con tre ingredienti, quindi carne o un prodotto animale, pastri o grain, tutto quello che è panificio, quindi paste, pasticcini, insomma, dolci o grani, e frutta o vegetali, verdure, frutto o verdure. E il pasto eccellente è quello con tutto. Qua sono tutte le generazioni delle cose. Gli edifici, planting, cioè c'è spiegato veramente tutto. L'altra cosa interessante che ci fa fare il tutorial all'inizio, questo, ve l'ho detto, è un video di spiegazione su quello che è il gioco, poi vi ricordo che il gioco, vi lascio un link in descrizione, dove io l'ho acquistato su Instant Gaming, l'ho pagato un po' meno di 6 euro, però il prezzo oscilla tra i 5 e i 7 euro, e se volete aiutare il canale potete cliccare il link e acquistarlo da lì. Che costa comunque meno rispetto ai 20 euro su Steam. Non che non li valga, è perché è un gioco in continuo di venire, però se volete dare una mano, insomma, vi lascio il link lì. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Comunque sì, il magazzino, la cosa interessante del magazzino, è che il magazzino è di nostra proprietà all'inizio, ma il gioco ci dice rendi pubblico tutto quello che hai nel magazzino, e infatti questo è nostro, e potete sales e prendere, quindi da una famiglia singola gli imponete di darvi una cosa d'emergenza, però questo diminuisce un pochino il morale. La possibilità invece di vendere ai villici, in questo caso io gli permetto di prendere tutto quello che il re mi ha mandato per gestire questa regione gratuitamente, quindi questo fatto all'inizio. Poi inizieremo a magari trovare il modo di procurarci delle gname e di venderlo alla gente, quindi la roba che verrà messa qui verrà venduta a loro, in modo da sfruttarli un po'. Allora, sarebbe da capire il link come funziona, ma in questo caso facciamo le mura, facciamo le mura così, vedete che... Ok. Non si capisce bene chi lo costruirà, infatti dipenderà molto dalla famiglia che assegnerò a questa zona. Costruisci un bar nell'in, vedete che io clicco qui, mi fa mettere il bar, e il bar è qui, lo metto qua, il bancone. Dopodiché mi dice, costruisci un calderone, quindi riclicchiamo qui, calderone, glielo piazzo qui. Costruisci un pozzo nell'in, e mannaggia, devo fare una cosa allora, devo espandere la zona, e gli aggiungo anche la zona davanti, quindi gli faccio il pozzo, certo che sono bambo anch'io, costruisci un pozzo, lo mettiamo dentro l'aria, giustamente, costruisci il wooden block in the inn, che è il punto in cui comunque viene stipata la legna, da ardere, quindi la metto qua, dovrebbe essere quello, costruisci i tavoli, tre tavoli, quindi piazziamo tre tavoli, uno, possiamo ruotarli, due, tre, mettiamo un po' ad katzum, costruisci sedie, dodici sedie, quindi wooden chair, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, e mannaggia a me, l'ho piazzata veramente male, questa, anzi facciamo così, ma, allora, facciamo così, allora, gli metto di eliminare tutto, così che, devo trovare, il punto dove si può eliminare tutto, allora, beh, potrei dirgli di eliminare tutta la zona, qua c'è, vedete anche la temperatura, perché estate, quindi fa caldo, la qualità del terreno, vabbè, la bellezza artistica dell'ambiente, insomma, e così, ma in menu no, devo capire come eliminare tutta sta roba, perché non mi interessa, ecco, infatti c'è cancel building, dovrei poterlo selezionare tutto, ovviamente intanto lo facciamo così, ma, nella costruzione dei remui, faccio, remove, il piano di costruzione, quindi elimino tutto, prendiamo di nuovo la zona qui, la facciamo, la editiamo, la facciamo molto più grande, e molto più profonda, il pozzo lo lascio, no, lo elimino il pozzo, e lo eliminiamo dopo, remove, plant, build, anche questo, ok, adesso rifa, rifa, walls, la facciamo bella grande, questa chiede wood road, o il legno normale, lo facciamo il legno normale, allora, tac, bella grande adesso, con una porta, poi gli piazziamo, assegnare una in, lo facciamo dopo, gli mettiamo un bar, quindi il bar, il tavolo, il bancone, gli assegniamo un calderone, quindi calderone, cold room, lo mettiamo qui, vicino al bancone, poi, un pozzo, il pozzo lo mettiamo all'esterno, qui, gli mettiamo un wooden block, che è importante anche quello, come abbiamo fatto un attimo fa, glielo metto qui, un po' a cazzo, dovremmo fare anche il pavimento, ma vabbè, build tables, tre tavoli, quindi, i tavoli sono importantissimi, quindi, uno, due, e le mettiamo qui qua, costruisci le sedie, dodici, ben dodici sedie, quindi, le mettiamo qui, una, due, tre, quattro, cinque, sei, una, due, una, due, una, due, e più, una, e una, due, ok, costruisci un shelf, quindi, il, vabbè, un portacibo, insomma, glielo metto poi qui, anche se, si può mettere anche addossato al muro, ma demolisce il muro, fa quello, non mi piace molto, e costruisci un letto, un letto, dovremmo fare più stanze allora, perché mi fa costruire un letto, ma dieci ne vuole, quindi, vediamo se riusciamo a farli qua, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci, ebbè, bruttissima fatta così, ma va bene, dovremmo fare una stanza con i letti, e organizzarcela meglio, perché questo credo sia una delle parti finali di questo tutorial, comunque, nell'in, possiamo andare ad assegnare una, una famiglia, assegna, un, cosa, a una famiglia, quindi devo cliccare qui, eh, non saprei neanche a chi, a chi assegnarla, perché li assegno a questi, quelli della foresta, assegnata, quindi loro iniziano ad occuparsi anche della futura, ehm, della futura taverna, posso accelerare premendo tre, e loro adesso si troveranno un po' spiazzati, perché dovranno fare due lavori, iniziare la lavorazione, della costruzione della nuova taverna, e anche la gestione della foresta reale, però vabbè, questo non è un problema mio, arriva la notte, quindi vedete che qua, il tempo passa, la giornata passa, insomma vedete che qua ci indica che è notte, sta arrivando la mattina, le ore insomma che passano, e cominciano a lavorare, quindi una famiglia che si occupa delle compilazioni, non ha preso un mucche, qua è la zona dovuta adibita alla carovana, intanto loro stanno iniziando a lavorare, quindi devono costruire un bar, le pareti, scusate, e manca anche il soffitto, quindi ci sarà da fare, vedete che intanto hanno fatto un letto, e iniziamo a farne due, il lavoro sarà parecchio lungo, questa è la mappa dove si comincia, il gioco è già piuttosto ricco di contenuti, e lo trovo assolutissimamente originale, per quanto riguarda la gestione, un po' avassallaggio, insomma da medioevo, quindi io vorrei capire il mio personaggio cosa un giro a fare, niente, regna, lui fa un giro, guarda il mercato, ormai ha finito i lavori, però insomma potremmo fargli fare qualcosa, del tipo, andando nuovamente qui, vediamo se c'è qualcosa, che può costruirsi in maniera, abbiamo il cabinet, per mettere dentro vestiti, armi e tutto, cannele, un wooden table, voglio fare un bel wooden table, perché non abbiamo un tavolo bello in casa, quindi lo costruiamo, e poi gli prezziamo che delle sedie, sedie belle, che non ci sono, il letto nobile, non l'ho fatto, sono tenuto umile, però adesso hanno uno scopo, no, in realtà adesso abbiamo, hanno fatto praticamente i letti, ma dormono tutti in locanda adesso, questi qua, perché? Ah, hanno fatto, ok, hanno completato, quasi tutto della locanda, ma, gli manca i tavoli, cioè non hanno ancora iniziato a costruire le pareti, ma, hanno la zona di vita, vedete che poi prendono i loro carretti, portano tutte le cose, adesso hanno completato, gli mancano sedie e tavoli, quindi, e qualcuno ha timidamente iniziato le fondamenta nell'edificio, qua c'è un barista, e vorrei capire adesso come si alternano, perché devono anche gestire questa, questa cosa qui, ed è abbastanza sovercchiante per loro, tanto qua continuano a produrre cibo, qua sulla sinistra ovviamente, l'avete visto, potete gestire, vedere tutto quello che sono le, le varie cose, i soldi che accumuliamo, sono veramente pochi, avrò guadagnato a fine stagione una moneta d'oro, e la parte critica arriverà, nel momento in cui arriverà l'inverno, perché l'inverno avrà bisogno comunque, di una scotta di legna, per tenersi al caldo, e così via, non so ancora come gestire, tutta questa cosa degli alberi, però intanto, vedete qua il carico di mele, bisognerebbe dirgli, gestite questi alberi di mele, ma non ho ancora capito esattamente come fare, comunque, intanto sono un sacco di, di gente che lavora alla locanda, e che dormono alla locanda, vorrei anche capire, da dove arriva sta gente, ma probabilmente è arrivata della gente, e non, e non me ne sono accorto, quindi sono un bambu io, no, sono sempre loro, però, sono in, in sei loro, la reputazione della famiglia, sono tutte ottime le reputazioni, possiamo vedere l'inventario della famiglia, quello che possiede ogni famiglia, a livello di, legna da ardere, oro, pasti, cavoli, hanno 69 pasti normali, i loges, vediamo un po' loro, 27, anche la ricchezza, 7 monete d'oro, hanno, loro hanno, 4 monete d'oro, cioè addirittura, c'è gente più ricca di noi, perché noi, al momento ne abbiamo, 6 monete d'oro, quindi c'è gente che è più ricca, del signore, del terreno, vabbè, insomma, adesso stanno costruendo, stiamo finendo, i tavoli, quindi una volta che avevano costruito, l'ultimo tavolo, ci mancheranno solo 3 sedie, e a breve vedrete, che il re ci parlerà nuovamente, dandoci nuovi compiti, mancano solo 3 sedie, ne abbiamo piazzate un po' troppe, quindi possiamo, cancellare, un paio di sedie, magari una sedia, dato che ne manca una sola, eliminiamo anche questa, tanto, a breve, qua sono tutte le news, che poi ci danno, ma che ignoro, perché al momento, sto ancora facendo il tutorial, abbiamo, a clear all notification, c'è anche lì, ok dai, ci manca una sedia, e vedremo adesso, che cosa ci darà da fare, il nostro sovrano, così vi faccio vedere, anche come procede il tutorial, allora, ultima sedia, ok, hai provato, hai provato che te stesso, sei, abbastanza sufficiente, per regnare, non ho più piani, ok, abbiamo finito, praticamente il tutorial, quindi ora, il gioco, Lords and Billings, è assolutissimamente, promettente, questo è inutile negarlo, voglio vedere, se si vede il tetto, sì, il tetto c'è in tutti gli edifici, ormai, eccetto, la locanda, che ovviamente, è all'addiaccio, finiranno di costruire il tutto, e poi, ci piazzeranno anche il tetto, il tetto ovviamente, lo piazzeremo in paglia, vedete che potete prenderlo, trascinarlo così, qua non si può fare, perché non ci sono le pareti ancora, quindi ci farà questa tettoia qua, assurda, e basta, poi il resto non, non lo voglio più vedere, e poi il pavimento, il pavimento bisogna fare, non l'ho mai fatto, hook, con le plank, quindi piazzeremo il pavimento, qua, che non l'abbiamo manco noi, quindi adesso io posso dirgli, di piazzare il pavimento, anche alla nostra casa, e questo è, il gioco, il gioco è in early access, è già uscito da un po' di tempo, viene definito anche un gioco piuttosto difficile, nella microgestione del nostro regno, il regno non è, perché siamo sotto un E, però insomma, di signori, proprietari terrieri, i medievali, ragazzi, questo era Lords and Billings, vi ricordo che se vi interessa il gioco, sotto vi lascerò il link, col referale del canale, in modo che cliccando, c'è poi questa ruota lì, date un aiuto, con qualche centesimo, in automatico, col vostro acquisto, al canale, fatemi sapere che cosa ne pensate, qui sotto nei commenti, noi ci sentiamo al prossimo video gameplay, alla prossima ragazzi, e ciao ciao!